Ciao a tutti i pazzolari, io sono Beale e Filippo e insieme siamo anche di Family Vi presento due persone, Zio Nicolo e Nonna Laura Ragazzi salutate, salutate Non sentono Salutate i nostri fan Ciao, ciao a tutti, guarda chi c'è Ciao, adesso seguiteci per il nostro viaggio Dove siamo? Siamo nell'orto botanico alpino Delle Viote Sul monte Bondone Sul monte Bondone In provincia di Trento In provincia di Trento Stiamo per fare questa escursione bellissima Ragazzi aspettateci Saluto a tutti Bea Ciao